Ok Bounty Hunter Facciamo questo Io sto dietro con Roberto Ma che bastardo Che arma di merda Minchia Ancora peggio questa Proviamo questa Vediamo com'è AMG B Senza niente Ok Niente Ok Sì Grazie a tutti. No, munizioni che droppano? Niente, zero. Allora, facciamo... Come prima. Esatto. Come prima, più di prima. Ehm... Lasciatene uno, eh, in vita. Se vi capita. Guarda se vanno giù. Guardate! Guardate! minchia Mi manca pochissimo a quello Ce n'è uno che mi manca poco Possiamo... No, no, spostiamo... No, spostiamoci, spostiamoci No, fai l'altro bomb, vabbè Tanto siamo qua Cambio questo fucile della minchia Hologram, va bene Ok Questo Stabilità Come l'altra volta No, ma quelli corazzati comunque arrivano sempre Boh, basta che sia verde Munizioni, c'è una di munizioni, chi vuole Ce ne sono due qui dietro Ce ne sono tre Eh, io le prendo Ma... Eh, li Anche perché Sennò poi spariscono Quindi Potrei fare questa La corazza Quant'è? 3.600 La prendo dopo Come prima Allora Ma che stronzo Ma guarda tu C'è dietro il muro E mi becca Stavolta manco una Sì che non so cosa stia facendo Dove sta andando sto qua Ok No voglio questo Ancora dieci Quindi Due Ok No ma affanculo Nasciamole uno Perché poi bisogna Spostarci Spostarci Che stronto Non so dov'è Qui ce n'è uno Sì Ok Andate Lascialo Roby Roby Sì Vieni di qua Che bisogna fare Tre chilometri Adesso bisogna fare La maratona Bisogna fare Eccoci qua Se lo incontrate Lo potete uccidere Sì 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 Siete a posto? Con le armi siete a posto? Sì, camicazzo, sì. Sì, sono dietro io. Cazzo, Roby. Cazzo, ma dov'è quell'altro? Eh, bravo. Bravo. Dio, boi. Ok. Occhio. Oh, avessero droppato qualcosa. Ninja Zanad. Damage Reduction. Facciamo così. Eh, restiamo sempre tutti quanti qua, eh. Perché sennò... Nooo. Ditemi se avete bisogno. Una granita. non... Nooo. Chica. Nooo. Chica. Nooo. 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 finiti cos'è che vi prendete voi anche sempre ah l'ultimo a sinistra ok eh quello non è male no no stiamo qui stiamo qui perché sennò ci inculano si si occhio occhio guarda quanti prendetele ammo andiamo giù andiamo chi è morto adesso un qua ancora ma c'è un cane invisibile lì eh c'è si c'è ancora un cane ma vaffanculo ancora no c'è ancora gente comunque il mio amato m16 cosa c'hai tu voltron ah voltur no io c'ho ampli amplifier invece è potente io sono arrivato all'ultimo all'm16 amici hai testa di mino chi è giù chi è giù le scale le scale dietro robie ok ma ho cinque dove cazzo vai copro le scale dietro chi siete chi è giù Ah Guarda che stronzo Chi è? Eh Merda Merda La La Dai, venite, testa di minchia E dai È un cazzo È un dato, è un cazzo Guarda sto coglione, se si deve ficcare lì Move, move 18 Stability, e vai Restiamo ancora qui, eh Che sarebbe? Ma perché tu vai Sempre lì? C'è Prendile tu quelle, eh Roby, prendi le munizioni Lasciamone uno, eh Sono due Io ne vedo due Ah, ok, c'è il cane Uccidi il cane E che cazzo Dimmi, no, se uccidi qualcuno E che cazzo Appena lo uccidi però dimmi E c'era scritto, Nicolas Ma se ce n'erano tre Ma figurati se vedo il polsino E allora ce n'erano solo due C'era il cane e quello Vabbè, non è successivo Vabbè, non è successivo Grazie a tutti D'affanculo Porco due Uccidimi questo Non senza munizioni Porco due Che droppassero qualcosa Ci coglioni Oh adesso droppano Ma che dio li inculi Cortino Vaffanculo Ok No niente Non posso Non devo comprare niente Cioè Quando ho finito le munizioni Le ho prese Ho consumato Mille Oh Poi hanno droppato Qui in quattro Ma vaffanculo No è vero Dimmi se serve aiuto E' un po' E droppami qualcosa No c'è L'eserro E' un po' E' un po' E' un po' no finisco tutti i proiettili niente ho finito tutti i proiettili eh penso di averlo già preso ma non mi mancano soldi si il perk ah l'ultimo il vultur si si ho capito ho capito preferisco prendermi l'upgrade del del magazine o del magazzino per i proiettili sei sicuro che solo per questo? spam no se vuoi li lascio che vengono più avanti però no conviene Roby conviene a Roby che vieni dove sono io qui a posto lasciatane uno via ma tanto è qui dai cos'altro comprare sinceramente perché l'M16 è quello arrivato alla fine prendiamo questo dai così corro un po' di più eh io mi trovo bene guarda Car! occhio un altro cane di merda guarda se droppano qualcosa sti figli di troia niente non ha droppato niente ahia ecco vuoi tu? come vuoi speravo mi droppasse qualche altra roba niente ancora uno qui a posto c'è una cosa si può prendere ancora? eh dio ma più che altro più che altro perché i soldi li puoi comunque convertire in punti no? quindi visto che ho tanti punti si più il 26 come prima eh vieni più indietro o robbie dagli una mano o robbie dagli una mano io poi quanti cazzo sono tutti corazzati fra l'altro occhio occhio ti hanno fatto fuori ce n'è uno ce n'è uno dietro uno dietro che sta passando ok ce n'è un altro che spunta fuori da lì eh ce n'erano troppi ne ho uccisi almeno una decina ce n'è uno? ok ah perché è cambiato no è sempre lì cambia questa mi sa tanto eh ok speed oh più di questo non so che cazzo prendere questo qui ok questo shotgun devo prendere le munizioni sono fottuto porco due sono fottuto e sono fottuto c'ho un caricatore c'ho un caricatore fammi andare a prenderlo a me fammelo andare a prenderlo a me eh no fammelo prenderlo a me no che non avevo un caso eh no arrivo c'ho la pistolina no c'ho la pistolina occhio roby roby le spalle dietro 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 davanti davanti no no non no ah ma Grazie a tutti.